amici di tuot servicini e lontani bentornati sul mio canale siamo sempre qui che continuiamo il nostro gameplay su the division 2 e dopo aver esplorato la parte nord della nostra mappa aver liberato una due tre regioni ci troviamo ora qui nel southwest che è una regione praticamente vergine perché fondamentalmente abbiamo liberato un avamposto e sbloccato il rifugio all'inizio poi c'è da fare tutto principali secondarie zona contaminata avamposto shade io inizierei dalla la prima missione principale che troviamo appena usciti da rifugio che è questa qui la sede centrale dell'ente spaziale rapido conciso da qui si dovrebbe ristabilire la rete shade quindi si parte vediamo la difficoltà ci sono subito due di guardia questo è quello questo praticamente si è stesa questa questa che fa che fa che fa tu che fai tu eh sti ragazzetti sono terribili è la gioventù di oggi è la gioventù di oggi allora la missione comincia ma da qua perché l'isac torni operativo nella nazione dobbiamo riconnettere il sistema locale alla rete satellitare dovremmo poterlo fare dal quartier generale del nord raggiungi la sala di controllo posso darti istruzioni da qui ecco è proprio questo vorrei capire da dove si comincia la missione lui dice che si entra da qui ma poi e dove di grazia dove si dovrebbe entrare di qua non è che io posso andare a caso cioè mi devi dire dove dove andare vabbè mi so perso mi sa questo mi sa che appena c'è qualcuno che nomadizza qua dentro che cazzo ne sai no niente e ritorniamo là vediamo dove inizia sta missione aspetta segniamola sulla mappa vediamo così quale struttura non capisco la struttura ok vaffanculo vai qua dentro dimmelo prima no eh ero distratto questo questo c'ha le bombette spara la bozza ma bastardo dove sarà un bel botto ma chi è qua elton 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 e questo si è suicidato praticamente io sa sparare l'amico su l'amica luce quindi è venuto qua si è molato si è messo nella traiettoria dei colpi e è morto rapido indolore che sarà mai sta sistema benzina trasmissione nuova mille modi per morire eh la madame ma pure ho mandato capito ma pure ho mandato affanculo ma come ti permetti come ti permetti hai fatto mono lo fa più eh non t'azzardare mai più acqua pulita beh era lui quello che mi aveva mandato no e quest'altro e qua vai a capire chi era quello che mi aveva mandato affanculo comunque è morto no e questo e questo vabbè borse non ci stanno sacchetti vari borsettine niente 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 andiamo avanti saltello mai col saltello codice pin 4x0 la sala di controllo è in cima all'atrio ah no questa era 1 2 3 4 mica mettiamo i pin facili noi allora prendiamo sta borsetta poi ahhh ma tutta spaziale niente niente eh qua ho entrato da destra e da sinistra la strada è quella ci stanno i piccoli elton che mi aspettano e non sono nemmeno pochi allora vediamo un po' dove posso piazzare la torretta sempre se vale la pena ma mi sa che vale la pena mettere sta torretta ecco proprio così cavo questi c'hanno il lanciarazzi mancava solo sta sirena brava torretta come si stuta st'allarme eh eh io devo capire che è quello che lancia sti razzi ok io veramente ce lo faccio ce li faccio ce li faccio scuole ce li faccio devo capire chi sei tu lo devo capire ma tanto ti vengo a trovare tranquillo tranquillo mica finisce qua eh è lui è lui Oh, porca troia Porca miseria Ma quanti ce ne stavano? Perché mi sono entrato troppo avanti io? Che cazzo Che volevo fare? Eh vabbè, ricominciamo La sala di controllo è in cima all'atrio La risa te la devi giocare con calma Eh ma sti cazzo Adesso metto subito la torretta Qui sono 250 miliardi Ah, sai che faccio? La metto proprio centrale la torretta Ecco, la metto proprio là Voglio vedere Devo stare attento che ci sta qualcuno con lanciarazzi Eccolo qual è Eh, non ti preoccupare Mi occupo io di te stavolta Tranquillo Dai vai, carica, carica Eh, torretta tu devi fare il resto Che arrivano le notte in viaggio Ma vi è occupato del signorino là sopra Ah, si è pure spostato, è più di uno Si è spostato lì in fa Ma stavolta Devo prendermela con comodo Senza andarle a trovare Senza fare niente di strano Gestirmela Voglio vedere E lui c'è che il supporto Guarda te C'è che il supporto Qua sopra Eh, là partono i razzi Porca troia che basetta Ops Eh, oh Una volta posso Ah, prima ho coglionato Proprio alla grande Perché comunque Non Ecco, appunto Non dovevo andare a Spingermi fino alla sotto Anche perché questi Vengono all'esp... Non si sa da dove vengono Vengono da tutte le parti Non li vedo Questo è dove è uscito dal muro È dove è uscito questo Eh, vabbè Ma come cazzo corre La miseria Ha fatto che le scale Quattro a quattro Ma chi è? Ragazzo Tu devi andare All'Olimpiadi Te lo dico io Ah, c'è del cibagno Bene Prendiamo il cibagno Vai, saccheggiamo tutto Saccheggiamo le sacche Il saccheggiamento Della sacca Ecco Qua, qua, qua Qui, qua, qua Non c'è niente Ma quella allarme È già entrata dentro Le orecchie a me Orca miseria Siamo pure i cani Allora, a questo punto Qua non c'è niente Continuiamo la missione A questo punto Facciamo il caffè E poi andiamo Un caffè Un caffè per cortesia Grazie Vai con l'olio cuore Allora Qui c'è qualcosa Che noi Ci accingiamo A prendere E poi Ci dirigeremo Nella porta Indicata Che cazzo Mi sa che devo mettere il pin Uno, due, tre, quattro Qua niente Acqua non potabile Dobbiamo scendere Grande intuito Allora Qua ci sta Il distributore Che con un cazzotto Ci consegna Le cose gratis Allora Adesso Sarà questa La porta Da aprire No Sarà questa La porta Da aprire No Ci sarà Una porta Che bisogna Aprire Ok Rimaniamo qua Allora Allora Come si può fare Qua non te lo fa Premere Scatta l'allarmia Venga E adesso Raggiungi il terzo piano Quindi bisogna salire Ah ok Perfetto Sarà proprio Al contrario Di quello che dovevo fare Perfetto Bravo Alberto Complimenti Applausi Per te Sei proprio Un furbacchione E lì Capriola Dopo la figura Di merda Possiamo pure Capriola Sono i nemici Sai che novità E col cazzo Che mi frega Ti metto la torretta Qua Lancia la fessaghetta Ciega Sarà che ti è rimasto Lo sputacchio Appunto Avanti il prossimo Venite venite Accomodati Accomodatevi pure Entrate pure Entrate 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 Mi preoccupa di questo Capoccello Qua Capoccello Capoccello Tutto bello La madonna Chi si è da olimpiadi Comunque Quello ha fatto lo scatto Ha fatto pure Salto Come viaggio Viaggia Tutto 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 E' che atletica Che c'hanno sti ragazzi Una palestra Che si fanno palestra Questa gente allenata Amica Niente Ho rotto Sky Allora Cibo 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 La lavagnetta Facciamo i disegnini 8x8 Allora Fotocopiatrice Io direi di procedere Procediamo col procedere Anche se prima di procedere col procedere Io vorrei appunto Proviamo di raccogliere Ste cosette Che magari troviamo qualcosa di utile Ecco appunto Non c'è un cazzo Di nulla Ma noi siamo sempre ottimisti Noi viviamo con l'ottimismo dentro Stavolta cambio il pin 4x0 Voglio vedere Ma questo Allora Qua Qua qui Qua Niente 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 Dobbiamo Salire Adesso è l'altezza Ci va La testa Diamoci dentro Così proprio Da come la interpreti Dai Da quella che c'ha le bombe Secondo me Questi mi volevano aggirare E si se ne approfittano Perché sono tanti E se ne approfittano Eccolo Eccolo Ci riprova Eccolo E' tutto sto cinema Ma sta atletica Su giù Ma va Va Tutta l'atletica Salta Il saltellino Manneccia Allora Qua Non c'è niente Qua Non c'è niente Qua Non c'è niente Qui c'è del Cibagno Ecco la Cibaggine Vai E' un disegno Arte contemporanea Qui c'è da Saccheggiare qualcosa Fotocopiatrice Stampa ultimo Stampiamo Oh La teoria della terra piatta Ecco i terapiattisti Mamma mia No Stanno pure qua Ok Abbiamo scoperto i terapiattisti Pura a The Division 2 Andiamo avanti Tanto ormai La vita mia E' plagiata Allora Facciamo il giretto qua Ho visto tutto Ah faccio proprio così Faccio Oggi me la sento Avete voluto voi Oh guarda L'armetta Andiamo avanti Andiamo avanti La terra piatta Andiamo avanti Metto il codice pin Che non vi dico Oh E' segreto E' top secret Il mio codice pin Molto top Comunque Comunque Uno che sapeva disegnare un po' meglio Capito l'arte contemporanea All'astrattismo Terminale Disconnesso Con il terminale principale offline Ci sarà del lavoro extra da fare Prima di tutto Trova un computer funzionante Sembra Sembra facile Questo casino qua Allora Questo funziona Sta pornav aperta No Questo funziona Un computer per vedere Pornhub Ecco Dovremmo stabilire Una connessione manuale Ci serve una buona antenna E una radio ancora migliore E qui ci sono entrambe Vai e allinea le parabole Dovrebbe essere Scommetto che ci stanno Puri nemici Scommetto che ci stanno Puri nemici E' sta Eh ma Eh La furbizia è tutta Nella vita Intanto Sentiamo un attimino qua Conviene fa pulito La pulizia è importante Allora Le parabole Devono essere allineate Ma gira la stessa Resore Eh no Sta per l'aria Invece che uno diventa Scurrito Allora Allinea le parabole Le parabole sono queste Sì Tramite Il controllo Ok Allinea l'antenne Allinea Allinea Non ci vorrà molto Ad allinearle Dovrai comunque calibrare Entrambe Questo renderà Tutto più veloce Per Dio Che questi Mentre io stavo Le paraboline Mie Sono arrivati loro Ma io lo dico sempre Che la crisi Attanaglia Attanaglia La crisi Ma tanto vi vengo a prendere A 1 a 1 Solo questione di tempo Figurati Chi prima Chi dopo Per la stessa fine Fate Non li vedo Sì perché dovevo finire Di fare quello che dovevo fare Non potete venire subito A fare Gli splendidi Capito E' questo che pagherete Guarda Sto cosa Su cava Sono terribili Sono terribili Finiti Vabbè Tanto Appena comincio Allineare di nuovo La parabola Guarda che arriva Ora devo ricominciare Ah no Meno male Ok Una è andata Oh E l'ha allineata Sta scritto Niente Ma Vabbè Arriva il salito splendido Fuce la pompa Che si spara Le sue cartucce Va bene Va bene Come dici tu Ma guarda Io sono un tipo paziente Cioè non è che c'era Tutta sta Una intanto è allineata Il problema è che ogni volta E' beata Da là come cazzo Corrono Non fa tanti Ma fa tanti doping Vabbè Ora appena va vicino Questa è allineata Dobbiamo fare quest'altro Appena comincio Arrivano sti splendidi qua Splendidi Dei provinci Tanto lo so Come va a finire Gira Gira Eeeh Che avevo detto io E devo capire quanti cazzo sono Cazzo Visto Nuovo caricatore Tento doppio Cazzo Cazzo Devo riposare Cazzo Devo riposare Caricare Ti piace così Agente Ah appena Appena metto mano Di nuovo alla parabola Arrivano tutti Gesù Christi qua Vabbè che tanto manca una Ora Si E metto proprio la torretta Vabbè che cazzo cattivo Guarda nemmeno mano fatta Rivasso Vabbè Vabbè che non c'era 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 Allora andiamo subito a muovere la parabola Che tanto arriveranno altri Ma ancora c'è la torretta Piazzata là per terra Che mi può aiutare Il drone è andato a farsi Benedire Ecco appunto La torretta fa il suo Quello sta là sopra Quando poi mi manca poco Devo fare l'ultima bottarella Dimi E se non la mangia la bombetta Un'altra No A questo punto mi sa che possiamo Andar a finire di girare Stacavolo di parabola Satelliti allineati e pronti al trasmissione Ancora eliminati Ma che volete da me? Cosa vi ho fatto io? Cosa ho fatto io di male Per meritarmi questo? Io devo aver fatto qualcosa di male A qualcuno Per meritarmi tutto questo Io secondo te non arrivavo Senti Jefferson Eh Qua situazione non è che Tutta una passeggiata delle salute Vediamo qua sotto che ci sta Ma tanto Non penso ci sia qualcosa Perché prima Facendo il movimento lento Delle parabole Dice che bisogna andare De là Andiamo de là Dobbiamo mettere il codice Il codice PIN Anche questo Top secret Non ve lo posso dire Lo so io E altre due persone In tutto il mondo Quindi Allora Vediamo se sta palestra Serve a qualcosa Dalla Vai Lo sforzo Lo sforzo è importante Vai Col saltello Allora I fornimenti Siamo a posto Qui c'è una cassa Viva l'altruismo Bisogna buttarsi sicuramente Là dentro Ora io sono curioso Di vedere Però Il Le ultime stampate Delle fotocopie Perché Ci sta la fotocopietrice Volevo provare A fare l'ultima stampa Dovremmo A fare sto salto Qua Vediamo qua Qua La tuta La tuta La voglio pure io Voglio pure io La tuta Saccheggi I calcoli Dio Vai La Dite La paramo Ok Già un po' più preciso Bella La tuta La tuta Spaziale Allora Qua niente Qua niente Tutte spaziali Per i sottoscritti No Vabbè Ci ho provato Allora Qui non c'è niente Qui ci sono appena stato Quindi a questo punto Suppongo Bisogna andare di qua E qua Suppongo che io Non sia da solo E a giù Già un gatto Il cioncamento La torretta per ora Non serve La voglio gestito Sì Cavallo Cavallo Atleta di cavallo Quindi con una testa a coda Piccolo piccolo Allora Qua non ci sta niente Qua Nemmeno Qui c'è Cibo 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 Poi I fiuti No cibo Come sai Con la crisi che ci sta Va bene tutto Ma qua Niente Questa cassettina qua Poi 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 Facendo il giro Vediamo qui sopra Vediamo qui che c'è Niente Possiamo procedere Qui 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 Niente Qui Niente Va bene tutto Andiamo a vedere Pornhub Vai 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 Metti Pornhub Metti Pornhub Metti Pornhub Ho detto Pornhub Che cazzo è sta roba Eh Scorta il modulo Lo devo pure scortare In che senso Scortare il modulo Questo è il modulo Ok Metterò una torretta là Che devo fare Devo fare un ratto Era il ratto Era il ratto Ma la torretta intanto li tiene occupati Più che altro se devo scortare sto modulo Significa che loro si proveranno A buttarlo giù Vabbè Mi sparava tutte le parti Però Ma la torretta Continua a fare Il tuo Quanti cazzo Ne so E basta Trovate ben hobby Ma non fatene su tutta la torretta Dai devi scapocchiare Dai Non rompi i coglioni Dai scapocchi e basta Dai chiudila qua No Vabbè Capito Ma Sto modulo Che ha fatto E' andato avanti Si è rifermato Ma devo pure ruotarlo E' certo Ma facciamo le cose tutte Magari arriveranno degli altri Proteggi il modulo 9 misi departo Questo qua Che faccio ora Proiettili come sta messa La madonna Addirittura con lanciarazzi Si sono presentati Ah beh Che meseico La madonna Quello Aspetta un attimo Se non mi fa male Eh vabbè Ma qua A chi devo guardare A chi Eh lo so E come fai Non so Non so più Chi mira Porca miseria Ci vuole pazienza Munizioni 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 Anche perché Ogni cagata che fa Sto modulo Devo sparare Quindi Fate voi Ora camminate Molto probabilmente Speriamo Apri questa cosa Qua Ora mi devo pure decontaminare Andiamo bene Qua non ci sta niente Andiamoci a decontaminare Vai Spruzzo Spruzzate Vai Vai Non ho spruzzato Fai un cazzo Può fare Allora Ecco le munizioni Eh Pornhub Niente E avanti E certo Attiva la leva Premi la leva Arriveranno Altre 250.000 Persone Naturalmente Per discorsi Per discorsi Per discorsi Tant'ora Mentre il modulo Arriva fino alla sotto Da vedere Quante Eh Da vedere Quante Nesco Oglia Tua Fa Fittimo Guarda quello Quello Che allangra Ricarica Questo Mira Mi fa male Granata Sì Sarebbe Un razzo Un faccio E chissà Pensano Alla Granata Questo Resorio Alla Granata Accomodatevi Accomodatevi Puro Guarda Guarda Come non ci Ma qua escono Dei luci Più strani Escono E vabbè Questo Devo andare Da qua Comunque Arrivano Tutte le parche Vabbè Da Is Porca Miserio Ma comunque Arrivano In massa Rimuovi Il trasmettitore Abbiamo fatto Tanto Per prendere L'ora Lo devo Rimuovere Rimuoviamo Perfetto Questo tirerà fuori La trasmittente Dal modulo E la connetterà Al resto Del complesso Poi potremo Collegarci Ai satelliti Della divisione Ecco Agente Tutto bene Mi sa che hai compagnia Ma Non avevo dubbi Guarda Non avevo Veramente dubbi In merito Oh porca Troia E' quello Lassopra Perfetto 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 Allora Organizziamoci Questo lancia Oh c'è una cadenza Di fuoco Quella Lancia Granate Ora Conviene Mettere La torretta Qua Non so Già come va a finire Eh si si Come lui E' piccolino No Dove Mandate Puri Scagnozzi Giustamente Ragazzi E' tosta 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 Se quello Riparte Se quello riparte Con lancia Ragazzi E' finito Ecco appunto E' andato Porca miseria No dai E' disumano E che faccio più Perfetto E' questo Non solo C'ha Quello Che c'ha Il lancia Granate Con cadenza Di fuoco 8000 Oh vaffanculo Sì 8000 Vedete Una copertura Chi sta 8000 Cristiani Vogliono Una copertura Questo mi sta Girare le spalle Eh vabbè Cazzo Mi invento Non mi posso inventare niente Vedrai Ma porca miseria Ladra Ma che cos'è Ragazzi C'è No dai Non è fattibile No Troppi Non so nemmeno Da dove inizia Io posso pure Fa quello che vi pare A voi Ma non so sinceramente Da dove inizia Quando se metto La mitraglietta qua La posso pure Mettere qua sopra Ma Cambia poco E quello C'è un lancio a granate Che c'è una cadenza di fuoco Impressionante Allucinante proprio A parte che sono incendiari E' già quello Non mi fa nemmeno Mirà Ma che cos'è Eh vabbè Sì vabbè Vabbè Venite venite Ma cazzo fai Dai sì Sì vai Uccidimi Tanto Ma cazzo fai Gestillo E' incredibile Cioè io credo Ci saranno Una sessantina Di cristiani Lassò Sotto Lui sopra Che c'ha tipo Quel coso Che la cadenza Di fuoco Incredibile Cioè La torretta Me la distrugge Tipo Con una granata Perché fondamentalmente Con una granata Me la distrugge Che altro mi invento Niente Eeeh Tu c'hai Il lancia Lancia tutto Cioè Agente tutto bene Mi sa che hai compagnia Ah uno Due Tre Guarda 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 Che roba Eeeh E vabbè Però Così no Non male C'è Sono pure incendiarie C'è nel senso Eeeh Troviamo una dimensione Non solo Mi fanno male Cane Sono pure incendiarie Ma che cazzo Che missione è questa Sono impossibili Questo Eh vabbè E' avanti E' avanti Se continuo a lanciare Questo mica C'ha paura A parte che c'ho Le munizioni infinite Le munizioni infinite Dio la verità Da questi Non so come Mi hanno fatto a prendere Chi mi ha preso Non l'ho capito Questo Continuo a lanciare Le bombe E' finita Cioè guarda qua Cioè La stiamo a fare Se la stiamo a fare Da vero Sì sì Me l'aspettavo Sì sì Me l'aspettavo Questa me l'aspettavo Ma ancora devi vedere La cadenza di fuoco Che c'ha quel coso Se mica c'ha un colpo ogni tanto Andarla che roba E' il dolore Nooo 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 Questo Allora E come fai E come fai Dovete venire Dovete venire però Ora dovete venire Ah venite venite Che l'amichetto vostro Che lanciava le granate A ripetizione di vomita Non ci sta più adesso Venite venite E ora mi raccomando eh Mandane un'altra 15 Mila Porca puttana ragazzi Ma che cazzo è questo Disumano Ma se io riattivo sta cosa E arrivano gli altri Basta eh Amarrendo Basta Perché Mi faccio ammazzare Non può essere sta cosa La rete satellitare è operativa Manderò una squadra A mettere la trasmittente al sicuro Ben fatto Ah meno male dai Posso uscire ora No male Porca miseria ragazzi Chi ci torna più qua dentro Voi siete tutti pazzi siete Bandari criminali Ma non ci sta nemmeno un secondo Qua denato lo so Che è prima di usci Vedrai la sorpresa Andata? Meno male A questo punto io non ho capito Nella confusione più totale Non ho capito Un cazzo di quello che è successo Cioè M'ha dato dei punti di qualcosa Shade Non so Poi abbiamo preso Che armi Oh si è sprecato Le armi di livello 17 Mamma mia Che culo Sono quasi fortunato Mannaggia Devo pure ringraziare Desideravo molto Ste armi Le armi di livello 17 La pistoletta La pistoletta La pistoletta Noi smantelliamo tutto A questo punto Io Mi fermerei proprio qui Che malato Pure il cappellino Ho trovato il basco Basco Bordeaux Bordeaux Il Bordeaux Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Allora A questo punto Io mi fermerei qui Abbiamo fatto La missione principale Questa Ce n'abbiamo un'altra Qua sotto Prossima volta Abbiamo una secondaria Qualche Cassa Shade Da recuperare Contaminata Va in posto E poi abbiamo pure Questa Che è in esecuzione Va bene Io per il momento Vi saluto qui Ci vediamo al prossimo video E continuiamo un po' I nostri gameplay In questa regione Continuiamo a ripulirla Per poi andare avanti Io vi saluto qui Ciao ragazzi